Siediti, devi sederti, dopo te l'attiva su da sola, siediti, siediti, se ti siedi vieni su. I bicchieri sono sotto sedile davanti del passeggero. Dai, riprova, sarebbe fortunato, l'abbiamo andato di culo, basta, io una volta l'ho fatta, andiamola davanti. Hai capito com'è, no? Vai dietro a lui. L'ho fatta una volta. Io quando vado una... Ma in teoria ce la fai una volta, se no c'hai anche la convinzione di aver già fatta. Sì, ma io tre volte, quattro volte, dopo basta. Se no poi continui, poi la fai, perché capisci dove sbagli, però non ha più senso dopo. Ma c'è anche il cagnolino alla tipa. Ma questa domenica sono stati qua mezz'ora di più a continuare, ma non c'era verso. Devi sederti Luigi, devi schiacciarla, appena la giri schiacciala. Se io non vedevo il Giavidino, non la facevo, eh. E' che quel tronco lì, poi ti s'assesta, perché... Ancora più stretta, che esageri adesso, eh. Scusa. Cioè, già intanto che l'ho fatta... A parte che magari è più facile. Qua devi mettere più peso, se non metti giù bene il peso non vieni più più, ma neanche. Ma neanche. e ma tieni conto che lui è alto fa fatico a farla che devi tirare la volea se no non la fa non lo so se ce l'aveva accesa siediti giù giù andiamo andiamo giù schiacciala bravo così se la schiacciava era fuori ciappa i birilli chi è che c'è qua c'è qua lui che prende i birilli 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 qua c'è il cugno dai 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 se ti fermi basta lo metto a te la spazio e ti dà il tuo coppio indietro dai andiamo di la dai luigi che andiamo dai luigi dai luigi dai luigi dai luigi dai luigi dai luigi zero 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 bravo 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 dai luigi 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 dai